Nell'immaginario collettivo la ricerca di base, la ricerca scientifica è spesso vista come qualcosa di astratto, lontano dalla realtà quotidiana. Invece quello che succede è che la ricerca di base impatta enormemente la qualità della vita degli individui, nostra e il nostro potenziale di sviluppo come società umana. In particolare nel Dipartimento di Scienze dei Materiali, qui all'Università di Milano e Bicocca, dove lavoro, ci occupiamo di realizzare materiali avanzati, innovativi, con proprietà che non sono offerte dalla natura. Per fare questo spesso utilizziamo nanotecnologie che ci permettono di manipolare la materia fino quasi al singolo atomo e in questo modo realizzare strutture artificiali che superano i limiti della natura. Con questo approccio possiamo quindi realizzare dei dispositivi veri e propri che hanno un enorme impatto sulla vita degli individui e sulla società. Ad esempio, quello che vi mostrerò in questo talk per Meet Me Tonight, è come possiamo realizzare nanostrutture fino a un miliardesimo di metro di dimensioni che sono in grado di manipolare la luce per poter generare elettricità dalle facciate degli edifici, piuttosto che interagire con le radiazioni e quindi fornirci dei rilevatori ad alta efficienza che possono essere utili sia per la nostra sicurezza nazionale, ai confini piuttosto che nei processi industriali, sia per la diagnostica medica, per realizzare delle tecniche diagnostiche ad alte prestazioni.